ebbene sì cari amici della tg avenza grande richiesta continua questo fantastico viaggio all'interno del mondo social oggi parleremo di tatuaggi alcune curiosità sui tatuaggi non come quelli del nostro giovanotto qua presente ma bensì della bellissima eleonora le radici dei tatuaggi sono antiche si parla di circa 5 mila anni fa con il ritrovamento di una mummia come testimonianza sul monte simulaun che si trova al confine tra italia e austria sapevate che tra gli anni 60 gli anni 90 i tatuaggi erano illegali erano abbinati al concetto di criminalità ed erano usati principalmente tra le gang e i delinquenti la nuova frontiera sono i tattoo vegan che sono composti da pigmenti di origine vegetale e che risultano meno aggressivi sulla pelle inoltre non sono mai stati testati sugli animali il mondo dei tatuaggi è un settore in forte crescita ed espansione statisticamente parlando sono le donne a tatuarsi di più rispetto agli uomini e il primo tatuaggio avviene in media verso i 25 anni in merito alla sicurezza in italia il ministero della salute ha emanato delle linee guida da rispettare per l'esecuzione dei tatuaggi e su questo l'italia è molto più all'avanguardia rispetto ad altri paesi europei ringraziamo l'onora di averci portato nel fantastico mondo dei tatuaggi per tg evans andrea evans e ricordate di seguirci sempre sui social socializziamo grazie a tutti